Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, bentornati per quelli che mi seguono già andiamo avanti con i video tutorial e oggi avrai un'idea per Pasqua da mostrarvi innanzitutto vi serve una sagoma in cartoncino molto semplice da realizzare vi do le misure, allora è a forma di uovo con la base piana però le misure sono 22,5 x 19 cm precisamente il punto più alto misura 22,5 il punto più largo 19, vi ricordo anche la misura della base che è 10 cm perfetto, poi io le ho già preparate due sagome appunto a forma di ovetto in feltro spessore 3 mm inoltre vi serve un rettangolo della misura 35 cm x 6,5 ed un altro rettangolino molto fine e sottile come una striscia della misura 46 di lunghezza 1,5 di altezza perfetto, sposto un attimo e procediamo subito allora prendo la sagoma a forma di ovetto intanto una prendo il rettangolo, quello più grande lo posiziono sul mio ovetto a occhio poi se volete essere più precise misurate lasciando un po' di spazio nella parte inferiore circa mezzo centimetro se volete anche uno insomma però direi mezzo va più che bene cercherò di lasciare anche più o meno lo stesso spazio parte per parte sarà all'incirca un centimetro, un centimetro e mezzo ecco che mi sposto per mostrarvelo meglio per aiutarmi mi faccio due segni con la penna in modo da sapere poi come procedere con l'incollaggio perfetto, ho segnato i due punti prendo la cola a caldo la apporrò su tutta la striscia di rettangolo sullo spessore ovviamente procedo cercando di essere più precise possibile adesso io sto andando via veloce quindi scusatemi ma ovviamente non posso essere precisa procedo con l'incollaggio guardando i due punti segnati in precedenza posiziono, posiziono e cerco di premere un po' così il feltro farà adesione benissimo ora andrò ad incollare l'altra sagoma ad ovetto per chiudere il mio cestino pasquale vi do un piccolo consiglio prima di incollare fate la prova e mettete il vostro cestino in verticale in modo che i due lati combaciano sennò poi il cestino una volta in piedi risulta un po' storto quindi procedo a mettere la colla sull'altro spessore della mia base che poi conterrà ovetti di cioccolata e quant'altro posiziono poi voi fate in modo più preciso metto in verticale in modo che se c'è da scivolare giù di qualche millimetro si fa ancora a tempo benissimo ultimo passaggio prima della decorazione la stricoletta ci farà da manico quindi io andrò ad incollarla parte per parte in questo modo cercherò di mostrarvi meglio allora goccia di colla da un lato posiziono in centro della base facendo fare presa all'incirca lasciate qualche centimetro insomma ecco stessa cosa dall'altra parte colla procedo ed il mio cestino con il manichetto a forma di ovetto pasquale è pronto la decorazione allora qui ci si può sbizzarrire ho preparato anche altri esempi nel primo ci sono delle decorazioni in feltro già pronte a mo' di fiorellino si toglie l'adesivo e si procede con l'incollaggio uno due tre questi sono molto veloci e semplici delle apette in legno anche qui stessa cosa una la incollo qui e l'altra andrò ad incollarla sul fiorellino poi fate a piacere vostro ecco qua e il mio cestino è pronto vi mostro qualche altra idea sposto questo ecco ho preparato un'altra versione questa magari adatta più agli adulti ecco stile shabby chic l'ho preparata in feltro nuvolato panna ho aggiunto delle roselline vi rimando a uno dei miei precedenti tutorial dell'anno scorso fatte senza l'ausilio della big shot vi do qualche misura che vi può essere utile allora le ho fatte di due misure diverse le rose più grandi le ho realizzate partendo da un quadrato 12x12 cm mentre quelle più piccoline partendo da un quadrato 10x10 cm le foglie invece che adesso vi mostrerò come creare anche queste in due misure per le piccole servirà un rettangolo 12x2 cm per le grandi 18x3 cm almeno avete un'idea su come impostare le misure mostro come creare una foglia nella versione piccolina prendo appunto il rettangolino piego a metà parte chiusa verso il basso taglio una foglia partendo dal basso finendo a punta stessa cosa dall'altra parte ho creato due foglie doppie goccio di colla le piego su se stesse in modo da crearne una unica ed andrò ad incollarle sulla mia borsetta in un punto che avevo lasciato libero per concludere la decorazione ed ecco qui pronta anche questa terza versione qui ho aggiunto una specie di prato fiorito con le gabbiette degli uccellini allora gabbiette semplicemente incollate creato il fiocchettino al volo come in tanti miei video precedenti per questi fiorellini piccolini vi rimando sempre ad un mio vecchio tutorial dell'anno scorso che fa riferimento alle candele decorate molto semplici da fare quindi senza big shot ripeto il prato invece vi mostro come realizzarlo allora prendete del panno lenci verde appunto effetto prato posizionate la stessa sagoma che abbiamo usato per l'ovetto sopra il panno lenci e andate a ritagliarmi la forma della borsetta ovetto fino a circa un po' meno della metà ora vi mostro ecco qua io ho ritagliato questo pezzettino qui anche se non è perfettamente regolare non importa poi lo pieghiamo a metà in questo modo adesso io andrò a tagliare a stile zig zag o coroncina insomma come preferite chiamarle non importa essere precisi fate un più o meno ecco adesso vi mostro poi togliamo tutto quello che non serve eccoci qua e l'ultimo qui finiamo appunto fate un po' occhio perché poi tanto non importa l'effetto finale lo sistemiamo nel dopo benissimo abbiamo creato più o meno un prato insomma ecco il trucco sta nel fatto di poi andare a dividere le punte create e anche a rifinire in questo caso avevo fatto un taglio un po' sbagliato ecco qua le dividiamo anche qui e poi andiamo a tirare un attimino le punte per fare effetto prato insomma ecco il mio non è venuto un granché nel tutorial però ecco l'effetto finale dovrebbe risultare così ecco molto semplice anche questo senza bisogno di sagome o quant'altro ultimo esempio torniamo anche qui su una cosa dell'anno scorso però penso perché non utilizzarlo visto insomma se magari qualcuno di voi ha già le sagome riferite al portatovaglioli ripeto dell'anno scorso ho creato il mio ovetto giallo ecco qui andrò ad incollarci il mio cuniglietto ritagliato sempre in feltro 3 mm ho già applicato gli occhietti e il nasino procedo quindi colla e con questo cuniglietto direi che sembra quasi comprato insomma il nostro cestino ecco questo cuniglietto non è realizzato con la big shot è semplicemente ritagliato se vi riguardate il tutorial del portatovaglioli pasquale lo trovate poi magari credo che tanti di voi abbiano ricevuto anche in omaggio la sagoma con gli ordini fatti sullo shop online bene terminiamo applico un fiocchetto arcobaleno 50 cm di nastrino creo un'asola al volo la leggo con il nastrino fino di raso 3 mm sempre 50 cm in questo modo incollo il fiocchetto al mio coniglietto con un goccio di colla a modi papillon e creo l'ultima asola oppure le potete aggiungere qualche applicazione insomma fate voi piacere vostro creo l'ultima asola ed anche questa versione direi che è pronta rifilo il nastrino che ovviamente non si riesce mai a posizionare già a pari quindi vi consiglio sempre di lasciare qualche centimetro in più piuttosto magari tagliate quel mezzo centimetro via che magari ritrovarvi con meno che poi sembra un po' strano ecco ecco qua e anche questo cestino è pronto poi ovviamente ci dobbiamo aggiungere un po' di truccelo di legno a mo' di paglietta all'interno vedo se riesco a farvi vedere che stavolta l'oggetto è un po' più grande rispetto agli altri video quindi faccio un po' fatica ecco qua la paglietta e ci potete inserire coniglietti di no di plastica coniglietti di cioccolato ovetti di cioccolato o qualche pensierino pasquale ecco io non li ho ancora trovate nel supermercato quindi facciamo il video senza ecco e niente bene ragazze grazie per aver guardato il video spero che vi siano piaciuti i miei cistini di Pasqua come al solito senza cucire senza big shot e senza nulla cerchiamo di farle senza grandi spese insomma ecco grazie ancora ciao a tutti e alla prossima ciao a tutti